Sono passati 502 anni da quando Monbaroccio subì la minaccia di Francesco Maria I della Rovere, il quale voleva riappropriarsi dei territori della provincia dalla costa fino a Monbaroccio con l'intento di distruggerla. I cittadini colti dalla disperazione e dallo spavento decisero di rivolgere per tutta la notte le loro preghiere a Beato Sante, facendo voto pubblico al santo che nel caso in cui avessero scampato la distruzione ogni anno si sarebbero recati, la seconda domenica di agosto, in processione fino al santuario per rendere omaggio della grazia ricevuta. Francesco Maria I della Rovere, devotissimo del Beato Sante, una volta informato del voto risparmiò la vita a tutti gli abitanti di Monbaroccio. Dal lontano 1517 questa tradizione viene ripetuta in occasione della ricorrenza. Vengono pellegrini da tutte le marche, devoti, famiglie, ma anche direi anche da fuori. Tutti quelli che vorranno, che hanno dei miracoli, che hanno avuto delle grazie, chiediamo di portarli al santuario del Beato Sante, di chiedere di fra Renato Martino, che è il superiore del convento, perché poi vorremmo fare questa raccolta per chiedere a Sua Eccellenza il Vescovo, alle autorità ecclesiali, cominciare a percorrere un processo di canonizzazione del Beato Sante. Del nostro Beato Sante per intercessione del Signore è veramente molto importante. Quali saranno i principali appuntamenti di domenica? 9.30 partenza delle processioni dalle varie frazioni, alle ore 11 Santa Messa celebrata da Sua Eccellenza il Vescovo, la presenza del Sindaco e delle autorità locali. E poi vorrei ricordare un appuntamento molto importante, nel pomeriggio sera, Guidubaldo del Monte e le stelle, Galileo Galilei, ci saranno gli astrofili pesaresi, ci sarà Francesca Faedi, importante persone internazionali sul mondo dell'astrofisica, dove si potranno ammirare le stelle con il telescopio nuovo e il vecchio telescopio che usava Galileo Galilei. Quindi veramente un appuntamento importante anche per ammirare le stelle e per passare anche una serata così di amore, di serenità e di pace.